Penultima partita della stagione per il Nicosia Volley ed ultima in casa per questo campionato di Serie C. I biancorossi ormai salvi affrontano lo Stefano Lamotta, la Gupe Battiati. Clima vacanziero e formazione rimaneggiata per il Nicosia Volley, la Gupe ci mette più impegno e riesce a vincere facilmente la partita con un netto 3-0, aggiudicandosi 3-7 per 25-18, 25-16 e 25-21. Il Nicosia Volley, che con la quindicesima sconfitta stagionale, rimane ferma a 30 punti al settimo posto. L'ultima partita del campionato di Serie C di pallavolo 2014-2015, il Nicosia Volley la affronterà fuori casa contro l'Aquila Bronte, squadra che precede di pochi biancorossi in classifica.